ciao e bentornati sul canale bentornati sul canale allora anteprima assoluta l'abbiamo visto ma sta riuscendo il sole era nuvoloso sta riuscendo il sole abbiamo trovato questo mega kinder sorpresa maxi i puffi dopo questo metterlo da parte ci mettiamo sul cioccolato ma è bellissimo guarda come brilla il metallizzato blu azzurro e via rottura super sorpresona che poi a noi serviva il cioccolato kinder perché forza di fare panini con la piastra non lo sanno praticamente facciamo i toast con l'ovetto kinder sciolto perché noi abbiamo la piastra quella con le righe per fare i toast ci mettiamo il kinder nel toaster usiamo quella lì solo che c'era finito il kinder e quindi adesso possiamo ricominciare abbuffarci di tosta al cioccolato andiamo a vedere di che cosa si tratta il mega ovetto intanto assaggio un pezzo di cioccolato sulla parte della costa dove c'è un pochettino più di bianco allora andiamo a vedere abbiamo una strada che non puoi vedere tanto mangio una strada di qua vediamo un camion è dorato non capisco perché hanno fatto un metallizzato dorato sia di qua che di qua sembra quasi una rampa di scale per entrare nell'aereo e quindi questo sembra un aeroporto in realtà allora ci abbassiamo un po andare a vedere la sorpresa che sta montando sarà le sorprese sono grosse ma perché l'abbiamo trovato perché comincia ad avvicinarsi pasqua c'è il periodo delle uova ed il periodo del nostro canale in cui faremo vedere quest'anno tantissimo ma ogni mattina andremo a procurarci delle altre si non guarda no non guarda ok guarda intanto cosa faccio vedere i nostri amici la pista dell'aeroporto un parcheggio delle auto no è sicuramente una pista d'aeroporto e si può girare sia così che così in fase di arrivo di partenza non lo so vediamo allora sì era proprio un aereo e questo è proprio un aeroporto andiamo a vedere ed è tipo tra i tre dorati ce ne sono quattro dorati uno con l'altalena dorata uno con la camion di pompieri dorato questo qua e uno dorato c'è proprio il puffo dorato o il camion di pompieri o l'aereo o l'altalena dorato qualcosa di dorato insomma ci deve sempre essere e vediamo che non ho capito se le ruote la cosa non si muoveva normalmente ve lo faccio vedere bene è un jet puffosissimo tutto dorato quindi a me piace molto belle sorprese gigante guardate che grosse non capivo come montarlo però poi ho capito e quindi questo perché è così va bene perché è così va bene bello carino no quindi come sempre voi potete sfruttare l'occasione di vedere prima come sono le sorprese degli ovetti e dire poi papà e mamma voglio quella perché potrebbe esserci il superaereo dorato del puffo con la sua pista che però è superflua la cosa bella è l'aeroplano quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale di non viene via il puffo è intero tu che l'hai montato si è intero si c'erano staccate solo le ali e il retro ah ok tutto attaccato non si può staccare il puffo no peccato però no peccato però no iscrivetevi al canale e mentre la Sara sta già topicando il prossimo uovo gigantesco facciamo un'anteprima tanto questo uscirà ora quell'altro boh questo è il prossimo uovo che uscirà non so se domani dopo domani alterniamo vedremo comunque adesso noi facciamo la recensione e quindi noi vi salutiamo e come sempre noi vi salutiamo e vediamo Brasilio ciao